Auto vandalizzata dai gnoti, brutta sorpresa ieri mattina per Ilegna Di Santi, giovani amministratrice della maggioranza del sindaco Eros Lamaida a Castelnuovo Cilento. La sua auto in Alfa Romeo parcheggiata in piazza Municipio è stata oggetto di un atto vandalico. I gnoti nella notte tra mercoledì e ieri hanno bucato le quattro ruote. Il gesto intimidatorio sarebbe collegato ad altri due episodi, forse riconducibili ad una recente decisione dell'amministratrice. La transenna che aveva fatto posizionare per chiudere al transito e evitare il parcheggio nella piazza sarebbe stata oggettata da un muro per ben due volte. Condanna con decisione l'accaduto il primo cittadino Lamaida. Al responsabile del gesto vigliacque e vandalico perpetrato ai danni di una giovanissima donna, ancorché consigliere comunale di Castelnuovo, vorrei dire di farlo a me, di rivolgersi a me la prossima volta. Può raggiungermi facilmente, dice Lamaica, e rammaricato aggiunge. A questa persona dico, sei la vergogna, di Castelnuovo Cilento. La consigliera comunale questa mattina è stata nuovamente in caserma per denunciare l'episodio ai carabinieri. Non capisco, ribadisce, perché se qualcuno ha qualche problema nei miei confronti o nei confronti della mia famiglia, non viene a parlarmi di persona e lascia il proprio sfogo a questi episodi che sono molto gravi, non tanto per il danno materiale, ma per il tentativo di intimidazione che c'è dietro. E aggiunge, non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo, ma voglio precisare che il mio operato prosegue senza alcun freno, sempre per il bene di Castelnuovo e della mia gente.